Dio misericordioso e compassionevole, iniziando questo nuovo giorno, desidero aprire il mio cuore all'attenzione verso gli altri, ti ringrazio per la tua infinita bontà, che mi ispira a guardare oltre me stesso, e a vedere le necessità e le gioie degli altri, ti prego, concedimi la grazia di ascoltare veramente, di comprendere senza giudicare, e di essere presente in modo autentico per coloro che incontro, aiutami a riconoscere le sfide che gli altri affrontano, a tendere una mano amica a chi ha bisogno, e a condividere il mio tempo e le mie risorse con generosità, guidami, Signore, a essere un faro di luce, per coloro che si sentono soli o trascurati, e a diffondere gentilezza e compassione ovunque vada, che la mia attenzione sia un riflesso del tuo amore, che illumina le vite degli altri, e crea un legame di sostegno e amicizia, ti affido questo giorno, Signore, affinché possa essere un'opportunità per me, di donare attenzione e amore agli altri, Amen